Buongiorno a tutti, oggi è martedì 28 maggio. In questo giorno, come in tutto questo tempo che precede la Pentecoste, il Vangelo continua sempre di più a svelarci qualcosa della persona, dello Spirito Santo, che è Dio in azione, che agisce ogni giorno in mezzo a noi in modo misterioso, perché intimo ed esteriore allo stesso tempo. Distribuendo i Suoi carismi, lo Spirito Santo, Signore che dona la vita, diciamo ogni domenica nel credo, ci fa agire e parlare, non per merito nostro, ma per mezzo proprio dei Suoi doni, i carismi, che sono doni gratuiti e immeritati. Nel Vangelo gli Apostoli, lo leggiamo, sono smarriti, confusi, perché sentono, avvertono, Gesù glielo fa presente, che arriverà il tempo dell'assenza del Maestro, ma Gesù cerca di presentare loro un'assenza positiva, perché abitata dalla persona dello Spirito Santo, che aiuta a vivere nella fede. È ciò che possiamo sperimentare quando viviamo un distacco affettivo, se invece di subirlo chiediamo allo Spirito Santo la grazia di accoglierlo, noi ci rendiamo conto che ci si fa presente nel profondo di noi stessi un qualcosa, come un dono specifico che quella persona ci ha lasciato dentro, come un sigillo indelebile che abbiamo nell'anima. Ecco, quella persona resta dentro di noi il dono che lui o lei è stato per noi. È così, il nostro corpo, la nostra vita, tutto ciò che ci costituisce come persona, è ciò che resta delle relazioni che viviamo e che un giorno anche noi dovremmo lasciare. Un giorno anche noi dovremmo consegnare noi stessi a chi resta su questa terra e ciascuno di noi è come un tesoro prezioso da consegnare all'altro perché si possa continuare a vivere. Facciamoci caso, se non lasciamo non possiamo donare. Finché ho qualcosa stretto in mano non posso donarla, solo se lascio la presa l'altro può prendere ciò che voglio donargli di me. Ecco allora Gesù che oggi ci dice se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore. Lo sa che se non avesse accettato di lasciare questo mondo non ci avrebbe potuto donare lo suo Spirito, il Paraclito, colui che ci difende, che ci sta accanto, che ci ricorda, che possiamo fare anche noi come ha fatto lui, come ha fatto Gesù, che ci ha donato tutto sulla croce. Allora oggi all'inizio di questo giorno invochiamo su di noi il Paraclito, mettiamoci davanti alla croce di Gesù e preghiamo. O Paraclito vogliamolo darti, vogliamo accoglierti oggi, rendici capaci di lasciare anche noi come ha fatto Gesù qualcosa di noi a chi incontreremo. Gesù ha lasciato sulla croce la vita della terra, ha sofferto per i nostri peccati, le nostre giustizie e i nostri giudizi e noi, noi possiamo lasciare solo ciò che Gesù ha già redento e che tu, dolce Paraclito, ci permetterai di donare a chi metterai sul nostro cammino oggi. Per questo noi ti lodiamo, o Paraclito, o promessa di Gesù, noi ti accogliamo, Spirito Santo. Ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni capitolo 16 versetti 5 11. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli, ora vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda dove vai? Anzi perché vi ho detto tutte queste cose e la tristezza ha riempito il vostro cuore? Ora io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada perché se non me ne vado non verrà a voi il consolatore, ma quando me ne sarò andato ve lo manderò e quando sarà venuto egli convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio, quanto al peccato perché non credono in me, quanto alla giustizia perché vado al padre e non mi vedrete più, quanto al giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato.